buongiorno a tutti vediamo come compilare il modello di presentazione della domanda per le gradatori di istituto terza fascia personaleata per quanto riguarda il profilo assistente amministrativo andiamo a inserire il titolo di accesso da azioni disponibili si fa inserisci e si inserisce qui il titolo di accesso che è il semplice diploma di maturità selezioniamo diploma di maturità indichiamo l'anno in cui è stato conseguito per esempio il 2000 e poi andiamo a inserire la votazione conseguita durante la questa esame di maturità questo diploma di maturità per esempio 97 su 100 la base di votazione conseguita va inserita in questo punto qui della domanda e dopo automaticamente la votazione sarà data in base di decimale e inseriamo qui l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo per esempio liceo classico peresio cosenza e andiamo a dire quando è stato conseguito abbiamo detto il 2000 andiamo a scegliere proprio l'anno 2000 e indichiamo il mese che il giorno di conseguimento in questa area si potrebbe anche inserire il titolo conseguito all'estero se del caso con la data di riconoscimento del titolo che l'atto il numero dell'atto del riconoscimento oppure semplicemente la data di inoltre di riconoscimento questo solo se c'è un titolo conseguito all'estero e dunque a questo punto si può inserire anche la modalità di accesso che normalmente è la modalità a per i nuovi inserimenti o comunque per tutti coloro che anche devono fare una conferma un aggiornamento della loro posizione in gradatoria ma che non sono presenti nelle gradatori permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato o negli elenchi provinciali di esaurimento allora in questo caso ci sono le altre modalità inseriamo la modalità a il riferimento che quella diciamo più diffusa e poi si fa inserisci il titolo viene inserito con successo vedete titolo di eccesso salvato con successo dopodiché ci sono i titoli culturali e le certificazioni informatiche che si inseriscono attraverso questa azione si inserisce vedete si può inserire un titolo di laurea breve di diploma di laurea specialistica laurea magistrale diploma di laurea di vecchio ordinamento ma qui si possono anche inserire i diplomi di conservatorio di primo e secondo livello anche il diploma triennale isef e si fa attraverso l'azione di inserimento vedete si aggiunge il titolo e si inserisce la laurea per esempio chi ha una laurea laurea in giurisprudenza la inserisce ne inserisce la votazione per esempio 110 su 110 e anche qui andrà in decimi per esempio attraverso l'università dei studi di sina per esempio e si fa anche qui il quando è stata conseguita facciamo conto che sia stata conseguita nel 2009 questa laurea a giugno del 18 giugno del 2009 anche qui il se il titolo è conseguito all'estero c'è il solito discorso della data di riconoscimento del numero dell'atto o della data di inoltre della richiesta di riconoscimento anche in questo caso si fa inserisci anche qui il titolo è salvato con successo si possono fare certificazioni per esempio informatiche digitali inserendo da questo punto aggiungi un titolo per esempio dichiaro sotto la mia responsabilità che non era stata presentata precedentemente questo e precedenti trienni questo titolo oppure si è stato presentato che è stato già valutata insomma ci sono le varie opzioni fate conto per esempio un corso e cdl di livello avanzato si inserisce si dice qual è l'istituzione di riferimento per esempio aica e poi si da il periodo per esempio gennaio 2021 che si inserisce il titolo anche questo inserito con successo e così tutti gli altri titoli di riferimento e vedrete che anche questa spunta diventa verde dunque titoli culturali e informatici sono stati inseriti poi chiaramente ci sono sempre per lo stesso profilo di riferimento assistente amministrativo le scelte delle preferenze che si inseriscono sotto quest'azione già ce n'è una ma se ne possono aggiungere altre fino a un massimo di 30 come d'altronde si possono inserire attraverso quest'azione i titoli di servizio i titoli di preferenza e poi c'è le altre dichiarazioni obbligatorie che si inseriscono compilando il fatto di essere cittadino italiano o cittadino dell'unione europea o di altro paese o di essere di avere il vincolo dell'età i diritti civili e politici gli obblighi di leva la seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva per esempio milita assolto e oppure di essi iscritti nelle liste elettorali della provincia per esempio di reggio calabria dunque si va a trovare riferimento e del comune del sempre di reggio calabria e dunque si va a inserire pure questa condizione e poi di non essere stato mai destituito per i servizi presso una pubblica amministrazione e di non trovarsi non essere stato dichiarato decaduto di non trovarsi temporaneamente e inabilitato interdetto di non avere avuto condanne penali di non avere procedimenti penali in corso e poi di non essere dipendente dello stato o di enti pubblici collocato a riposo di avere un'igenetà fisica e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da elencare il trattamento dei dati personali altre dichiarazioni eccetera eccetera questo non si fa si inserisce e anche in questo caso come vedete è tutto inserito dopodiché la situazione si compilano gli altri profili e si può inoltrare la domanda speriamo che questa questo video tutorial possa essere stato utile ai nostri telespettatori continuate a seguirci e nostri social e in particolare sul canale youtube grazie a tutti quanti